Attraverso il cibo possiamo raccontare una storia italiana, possiamo raccontare il territorio, possiamo raccontare un sacco di cose. Insomma, sono un po' lunatico e in cucina si vede. Sancho Zaria! Sancho Zaria! Sancho Zaria! Ho capito che questo mestiere qua non si improvvisa, non ti puoi svegliare la mattina e pensare di fare il cuoco o addirittura di aprire un ristorante. Sancho Zaria! Sancho Zaria! Sancho Zaria! Sancho Zaria! Sancho Zaria! Sancho Zaria! Il cibo è sempre legato a una storia di luoghi, di tradizioni e di persone. Sancho Zaria! 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 Grazie per la visione!